Ben trovati, buona giornata. Buona giornata a tutti voi. Dunque è tornato al padre un altro testimone, un altro confratello. Avete sentito ieri la notizia, voglio definirlo profilo di un testimone fra Marcellino e Iassenzaniro perché ho qui una delle sue opere in due volumi che si chiama proprio Padre Pio, profilo di un santo. E tanti di voi avranno in casa una di queste opere, quattro ne aveva scritto proprio con tutta la nitidezza, la profondità e il rigore che gli erano propri. Fra Marcellino e Iassenzaniro. Ci ha lasciato ieri a 91 anni, era nato a Casa Calenda, quindi siamo in provincia di Campobasso, siamo in Molise, siamo in una terra profondamente francescana, in una terra profondamente vicina a San Pio da Pietrelcina. E sì, profilo di un santo. Aveva scritto anche il padre in tre volumi. In questo libro, che è diviso in due volumi, trovate nella prima parte fede, virtù cristiane, voti religiosi, poi nel secondo carità e prove sostenute nella speranza. E qual è la speranza più importante, la certezza più importante che ha testimoniato anche questo confratello di Padre Pio? Naturalmente il fatto che dopo la morte tutto comincia nel senso dell'eternità. E noi tra poco avremo da seguire in diretta, partecipando con commozione, con fiducia e anche con gioia, i funerali di Fra Marcellino. E abbiamo Maria Antonia, che già come inviata è pronta proprio davanti al Santuario Santa Maria delle Grazie, dove i funerali saranno celebrati a partire dalle 11.30. A te Maria Antonia. E' proprio così, Maria Pia. Siamo qui in diretta oggi sul Sagrato di Santa Maria delle Grazie, perché come giustamente ricordavi tu, parteciperemo insieme ai funerali di Fra Marcellino e Ia Senzaniro, che verranno appunto celebrati qui in Santa Maria delle Grazie alle 11.30 da Fra Maurizio Placentino, il ministro della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio. Fra Marcellino e Ia Senzaniro è stato l'ultimo dei frati che ha avuto il privilegio di svolgere il ruolo di assistente a Padre Pio, precisamente dal 26 aprile al 26 settembre 1965. E come tale ha deposto anche come testimone dinanzi al Tribunale Ecclesiastico Diocesano, proprio della causa di beatificazione e canonizzazione. Tu facevi riferimento ai suoi scritti, lui nella sua vita, nel suo lungo percorso di vita, passato appunto accanto a Padre Pio era ovviamente talmente rapito e affascinato dal frate di Pietrelcina che appuntava su un suo tacquino diverse riflessioni legate proprio alla spiritualità di Padre Pio. Allora vorrei leggervene una che dice così. I mezzi che il mistico Cappuccino adoperava per alimentare la sua fede erano la preghiera, soprattutto, e la meditazione sui misteri della fede. Padre Pio era sempre immerso nella preghiera, tranne i pochi momenti di ricreazione comune, però anche in questi momenti dava la sensazione di essere immerso nel mondo di Dio. Tra tutti i mezzi che adoperava per crescere nella fede c'era soprattutto la vita liturgica e la celebrazione della Santa Messa. L'Eucaristia rimaneva la sua attrazione. Quando non poteva celebrare chiedeva la comunione la mattina prestissimo. Questo è un passaggio dei suoi appunti, appunto degli scritti di Fran Marcellino Iassenzaniro, che appunto poi come ricordavi tu ha curato diversi volumi legati proprio alla figura di Padre Pio. Nelle sue omelie non faceva mai mancare un suo ricordo personale o comunque una sua riflessione proprio sulla sua vita anche passata accanto a Padre Pio. Quindi noi qui oggi siamo per l'ultimo saluto a questo confratello di Padre Pio, appunto alle 11.30. Vi ricordiamo i funerali saranno celebrati qui in diretta dalla Chiesa di Santa Maria delle Grazie. Con la speranza di riuscire a intercettare qualche frate, magari anche per un ricordo di Fra Marcellino, noi ti restituiamo la linea. Pronti a richiedertela appena ne avremo bisogno. Grazie Maria Antonia. Devo dire che io ho avuto il privilegio di seguire, di partecipare a diverse celebrazioni eucaristiche presiedute da Fra Marcellino. Mi è capitato soprattutto in quel di Campobasso, alla Madonna detta dei Monti, laddove appunto Fra Marcellino la domenica mattina andava a celebrare, soprattutto nei primi anni 90. E dunque anche il mio personale grazie perché era appunto anche un modo per stare più vicini a Padre Pio, per conoscerne meglio la forza del messaggio. Ma intanto non vi ho citato la data specifica in cui era nato un grande santo, Sant'Antonio, 13 giugno 1930. Così come nel segno della mamma della Vergine Maria ieri ha concluso la sua parabola terrena, 26 luglio 2021 dunque, l'altro cardine. Ma voglio citarvi anche i libri che ha scritto a proposito del rapporto tra Padre Pio e la Madonna. Uno si chiama proprio Padre Pio parla della Madonna e l'altro la Madonna nella vita di Padre Pio. E quindi spero che vorrete conoscere sempre meglio Padre Pio anche attraverso questi confratelli. Quest'anno abbiamo avuto due addi, almeno qui, ripeto, solo per la scena di questo mondo, che pesano molto. Il 17 gennaio scorso fra Marciano Morra e ieri fra Marcellino, Iassenza Niro, che aveva deciso di dedicarsi completamente alla vocazione con l'ordinazione sacerdotale il 21 febbraio del 1954 mentre appunto era già tra coloro che sono seguaci di San Francesco dal 16 settembre di sette anni prima del 1947 quando poi il 12 agosto di quattro anni dopo, 1951, confermò in modo permanente la professione dei consigli evangelici. Insomma, emise i voti religiosi. E devo dire che era stato chiamato Antonio civilmente proprio in omaggio a questa grande festa del 13 giugno in cui era nato nel 1930. Noi invece oggi, naturalmente per ora passiamo anche alle altre rubriche, poi torneremo fra Marcellino sul suo ricordo, sul suo esempio e daremo appena, ce la chiede la linea a Maria Antonia naturalmente, devo dire che a proposito di Santi del giorno, oggi invece troviamo delle figure molto affascinanti che però conosciamo poco quanto niente. Allora vi rilancio subito il fatto che nel calendario liturgico abbiamo i sette dormienti, come tra i vari Santi, martiri del III secolo, Massimiano, Marciano, Giovanni, Costantino, Maico, Dionisio e Serapione, molto devoti al Signore, eppure purtroppo la loro vita fu breve perché l'imperatore Decio pretendeva, era l'epoca in cui dai vertici dell'impero romano non si sapeva mai cos'era più importante, se un po' di tolleranza come era tipico dello stile legislativo romano, oppure un po' di intolleranza perché l'imperatore doveva essere al vertice di tutti gli dèi e quindi questi sette Santi cosiddetti dormienti ebbero purtroppo da testimoniare fino all'effusione del sangue, il fatto che non volevano sacrificare agli dèi ma soltanto essere. E vedete qui il luogo che ricorda ancora oggi ad Efeso, proprio anche nei luoghi celebri per le vestigia della Madonna, ricorda la loro testimonianza, la loro fede. Quello che è anche interessante, straordinario, testimoniato anche in un'antichità che troviamo addirittura al Museo di Roma, è che dopo due secoli qualcuno andò a cercare le reliquie, naturalmente era cambiata la situazione e si voleva appunto in piena epoca post-Costantiniana invece esaltare il cristianesimo e furono ritrovati non i corpi vituperati dal passare del tempo e dei vermi, direbbe qualcuno, bensì appunto intatti. Quindi questo prodigio li rese anche più celebri, e certo soprattutto in Oriente, tant'è vero che noi, come vi ho detto, non è che li conosciamo tantissimo, ma abbiamo potuto oggi recuperare. La cosa mi fa molto piacere perché noi siamo proprio ormai in questo ventunesimo secolo liberi da quel tipo di pregiudizio che invece nel secolo scorso imponeva quasi ai credenti, ai cattolici, di lasciar perdere le antiche tradizioni, quasi fossero appunto miti, leggende, ma al di là di quello che ci potrebbero dire gli esperti sulla veridicità, anche i fondamenti di alcuni miti, noi teniamoci la nostra leggenda giorno per giorno, che significa appunto da leggersi e da conoscersi. Abbiamo detto dunque dei sette dormienti, ma adesso cambiamo completamente argomento. Io stavo anche per cambiare il mio sguardo verso un'altra telecamera, giusto per fare una cesura appunto, in quanto andiamo a parlare di un grande personaggio, ma che naturalmente è completamente diverso. Si tratta di Guido Piovene, che era nato proprio il 27 luglio, il 1907 l'anno della sua nascita, in quel di Vicenza, quindi Veneto, poi sarebbe morto a Londra il 12 novembre del 1974, qui la regia salta già un altro nato il 27 luglio, che è l'attore Adolfo Celi, che vediamo sulla sinistra, ma vorrei ritornare a Guido Piovene con un suo capolavoro, che è questo, Viaggio in Italia. Infatti scrisse, era un giornalista oltre che uno scrittore, e rese celeberremo appunto questo suo peregrinare nelle regioni italiane per diversi anni, negli anni 50, con una pubblicazione che è un vero classico. Ad esempio Indro Montanelli, di cui abbiamo ricordato la morte giusto cinque giorni fa, vent'anni fa ci lasciava il principe dei giornalisti, che aveva lavorato con lui al Corriere della Sera, un po' più giovane di Piovene, diceva che bisognerebbe insegnarlo a scuola, farlo conoscere a scuola, questo viaggio in Italia, per capire come l'Italia proprio in quegli anni è cambiata in maniera definitiva, e non sempre per il mail o secondo questo scrittore. E Montanelli concordava. Dunque ho avuto modo di citarvi Piovene, adesso ritorniamo proprio a quell'immagine in cui tanti di voi avranno riconosciuto Sean Connery, l'attore più celebre, perché in effetti il nostro Adolfo Celi, che era nato a Messina il 27 luglio del 1922, poi morì a Siena nel 1986, aveva recitato anche appunto, aveva interpretato nel 1965, quindi 43enne, uno dei cereberrimi episodi della saga di 007, in particolare Thunderball. Però Celi, come tanti grandissimi attori, si è occupato di teatro, di cinema, di televisione, infatti tantissimi lo conoscono per una parte nello sceneggiato Sandokan. Siamo negli anni 70, era proprio la cerrimo nemico della Tigre di Montpracem. E dal punto di vista del cinema, invece, i critici ritengono che vada menzionata la trilogia di Amici miei, dove lui era appunto uno degli amici terribili proprio di quella saga, sì, è una mini saga, anche Amici miei, in cui Monicelli ed altri hanno raccontato lo spiritaccio, in parte toscano, in parte italiano, di un gruppo di amici. Ma noi adesso, invece, a proposito di gruppi, parliamo di persone che non fanno brutti scherzi, parliamo d'altro, cioè di un gruppo che arrivava da Ribera in provincia di Agrigento. E proprio con questo, morbidamente, con questo tuffo nel passato, vedo che già Maria Antonia è quasi pronta per un bellissimo collegamento perché è ricca di ospiti, dunque chiedo alla regia o spot o Maria Antonia. Sta a voi decidere. Eccola, siamo già pronti. A te Maria Antonia. Ho avuto la precedenza. Allora, mi sembra di aver capito che ho avuto la precedenza sugli spot, sono ben contenta perché è un bellissimo incontro quello che ho appena fatto, ovvero di questi giovanissimi frati che sono qui per partecipare a un incontro di formazione dei cappuccini. Ora, loro ce lo spiegheranno meglio con i termini più giusti. Lascio la parola. Francesco. Francesco. Sì, pace e bene a tutti. Noi siamo qui come rappresentanti delle case formative cappuccine d'Italia, quindi post-noviziati e studentati e ci stiamo incontrando per organizzare la convocazione europea che vedrà sicuramente nella prossima estate riuniti tutti i giovani cappuccini d'Europa per incontrarsi e stare insieme. Ecco, è davvero una... mi ha fatto davvero piacere incontrare questi giovani frati che tra l'altro parteciperanno anche ai funerali di Fra Marcellino proprio qui alle 11.30. Allora, velocemente voglio che parlino tutti almeno per presentarsi e per dirci da dove vengono. Pace e bene, sono Fra Domen, rappresentante della casa formativa di Milano ma sono originario della Slovenia perché lì facciamo formazione anche di vari paesi a Milano. Perfetto, qui invece abbiamo... Sono Fra Claudio, pace e bene, sono originario della Sardegna ma rappresento la casa formativa di Assisi. Pace e bene, sono Fra Giuseppe, rappresentante della casa di formazione del posto noviziato di Campobasso. originario della provincia di Palermo. Perfetto, allora, quanto tempo vi fermerete e quanti giorni starete ancora qui? Circa una settimana fino a giovedì sera venerdì così visiteremo anche un po' il luogo di Padre Pio qui San Michele e ne approfitteremo come dicevamo per organizzarci il lavoro futuro. Qualcuno di voi è la prima volta che viene a San Giovanni? Siete già venuti tutti altre volte? Noi sì, noi sì, alcuni nostri confratelli ancora la prima volta che sono venuti in questa occasione. Allora, io li ringrazio davvero per questo saluto che hanno voluto portare alle nostre telecamere e ringrazio anche la regia per avermi concesso la precedenza sugli spot che so che incommono. Quindi restituisco la linea con il saluto di pace e bene con questo gruppo di frati giovani che mi ha fatto davvero piacere incontrare. Un grazie da parte mia e anche un saluto di solidarietà al rappresentante della splendida Sardegna che come sappiamo sta vivendo ore molto difficili per quel che riguarda gli incendi nell'oristanese. Ma intanto è arrivato il momento di dare la linea alla regia. Nell'ultimo trentennio fra Marcellino e Iassenzaniro era stato particolarmente posto a servizio di tutti coloro che durante le celebrazioni eucaristiche si abbeverano al commento alla parola di Dio anche attraverso l'omelia appunto. E noi vogliamo farvi sentire alcuni stralci a partire da questo in cui sentite cosa dice a proposito della vita cristiana. Sono tentato di dirvi un episodio che mi è capitato in scuola. Un ragazzo molto bravo un giorno disse era la festa prossima dei morti dei santi mi disse professore i nostri compagni di quarta e di quinta hanno detto che voi dopo di un mese già sapete chi è bocciato chi è rimandato e chi è promosso. Io come sarò alla fine dell'anno? Io ho detto ho detto tu o sarai promosso con l'otto o sarai bocciato con il quattro lui ha detto non siete giusti se fate così se mi mettete il quattro se io vi do la sufficienza il sei allora io andai alla lavagna e dissi tu per me vali otto mi dai il sei quando mi togli due benissimo e a questo sei che tu mi davi io tolgo due perché tu mi potevi dare di più il ragazzo cambiò atteggiamento fratelli miei quanto noi potremmo dare a Dio e non lo diamo tante persone quando si confessano dicono alla domanda del sacerdote che peccati vuoi accusare dicono non ho fatto niente fratelli miei non è questione di non fare nella vita spirituale nella vita spirituale l'impegno è dare è fare siamo al positivo non ho fatto male a nessuno ma l'impegno è fare bene fratelli miei è su questo fare è fare bene è fare per amore che noi saremo giudicati San Giovanni della Croce dice saremo giudicati sull'amore è davvero commovente pensare che tra circa 20 minuti fra Marcellino e Iassenzaniro sarà ancora lì nel santuario Santa Maria delle Grazie dove lo abbiamo visto in questa parte di repertorio dedicata appunto alle sue omelie qui era circa una quindicina di anni fa vi ricordo che lui aveva conosciuto padre Pio nel 1952 anche se come avete sentito da Maria Antonia prima nel collegamento ci sono stati alcuni mesi in particolare che glielo hanno fatto conoscere e che poi hanno dato il via a quelle pubblicazioni sempre con spirito di servizio naturalmente cioè dal 26 aprile al 26 settembre del 1965 quindi tre anni prima che padre Pio morisse e proprio alla mamma colei che ha dato la vita a Francesco Forgione fra Marcellino aveva anche dedicato una parte di un'altra omelia che andiamo subito a gustare ricordiamo in questo momento lo devo fare prima di chiudere un obbligo la mamma di padre Pio nel 1928 mamma Seppa venne a trovare il figlio a San Giovanni Rotonto e stette circa 40 giorni quindi passò anche il Natale qui a San Giovanni Rotonto mamma Seppa era una donna semplice e anche modesta e povera quell'anno fece tanto tanto freddo volevano regalare un vestito bello di lana ma mamma Seppa per la sua educazione alla parsimonia alla povertà e alla modestia non volle accettarlo e la mamma di padre Pio si ammalò gravemente di polmonite doppia e così dopo le feste il tre appunto mamma Seppa spirò nella casa di Maria Paio di cui era ospite e lo vogliamo ripeto la vogliamo ricordare siamo sicuri che è in paradiso perché è inammissibile che padre Pio che ha lavorato tanto per la salvezza delle anime non avesse portato in paradiso la sua mamma è davvero splendido avete sentito anche il dettaglio che lì per lì vi sarà sembrato un errore diceva fra Marcellino mamma Seppa anziché mamma Peppa del resto si chiamava Giuseppa e noi adesso siamo già pronti per collegarci di nuovo con Maria Antonia anzi è lei che è pronta nonostante questo caldo feroce e di questo la ringrazio a te Maria Allora Maria Pia volevo aggiornarti intanto prima anche per prendere un po' di fresco sono entrata in chiesa qui a Santa Maria delle Grazie e devo dire che la chiesa è già molto piena il feretro si trova già all'interno del santuario all'interno della chiesa di Santa Maria delle Grazie e ricordiamo appunto alle 11.30 i funerali che saranno celebrati da Fra Maurizio Placentino ministro provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio continua il via vai anche di frati giovani che fanno parte di questo gruppo che abbiamo avuto il piacere di avere prima come testimoni e direi che sono una controtestimonianza rispetto al calo delle vocazioni di cui comunque si parla e che si registra è bello vedere davvero quanti giovani giovanissimi scelgono di indossare l'abito cappuccino e a proposito di giovani Fra Marcellino entrò in convento molto giovane aveva 16 anni quando appunto entrò nell'ordine dei frati minori cappuccini e sempre con i giovani la sua vita si caratterizzò anche appunto per la formazione fu direttore spirituale degli studenti a Sant'Elia a Pianisi e a Campobasso e animatore vocazionale e bibliotecario poi ricordiamo appunto le sue qualità e doti da predicatore per cui tu hai mandato in onda giustamente degli stralci di Omelie nelle quali appunto non faceva mai mancare le sue riflessioni e i suoi anche ricordi legati a Padre Pio appunto da Pietrelcina noi fra poco saremo pronti a partecipare al funerale e dare l'ultimo saluto a Fran Marcellino all'interno ci sono già diversi suoi confratelli comunque molto commossi che appunto si uniscono questa mattina per dare l'ultimo saluto al loro confratello e voglio grazie Maria Antonia voglio ricordare a tutti tu già lo sai che Fran Marcellino oltre che laureato in teologia come ci sembra scontato era anche laureato in lettere quindi anche un personaggio come Carlo Campanini di cui ha parlato in una sua appunto riflessione omiletica lo ha saputo raccontare a pennellate davvero quasi letterarie sentiamolo Carlo Campanini un attore un uomo dalla doppia vita prima di venire a San Giovanni Rotondo siccome gli avevano detto stai attento stai attento Padre Pio vede nel profondo Policiti un po' si è andata a confessare da un altro a Roma erano anni che non si confessava quando si incinocchiata i piedi di Padre Pio si è sentito rivolgere questa domanda la solita domanda da quanto tempo non ti confessi lui tutto contento disse da una quindicina di giorni e Padre Pio indicando una confessione di vent'anni prima ha detto devi ricominciare da quella confessione e Carlo lo seguì lo seguì splendido racconto riassuntivo appunto di una storia straordinaria come tante rispetto a chi ha avvicinato San Pio ma anche tante lo sappiamo perché anche voi ce le raccontate di chi avvicina i seguaci di San Pio i confratelli i testimoni e adesso vogliamo ancora in maniera riepilogativa ascoltare fra Marcellino proprio a proposito di che cosa significa anche prepararsi spiritualmente ad essere figli di Padre Pio i suoi figli spirituali hanno visto nell'insegnamento del Padre qualcosa di serio di gravoso ma anche bello una volta un figlio spirituale disse al Padre padre io vi voglio seguire Padre Pio ha detto non sai che cosa mi chiedi e poi ha aggiunto figlio mio per purificarsi bisogna passare attraverso un bosco fittissimo pieno di ostacoli e senza luce e Padre Pio chiedeva appunto la conversione che sono tanti esempi di conversione che Padre Pio ha operato quanta gente ha cambiato totalmente vita perché venuta a San Giovanni Rotonto è stato preso dal padre ecco in tanti di voi vorrete certamente ritornare a conoscere meglio fra Marcellino e a Senza Niro ma vi basta continuare a seguirci perché alle 11.30 nel corso della celebrazione eucaristica in cui appunto saranno celebrate le esequie il ministro provinciale riepilogherà nuovamente l'esistenza terrena di questo confratello di Padre Pio che è ritornato al padre ieri a 91 anni adesso la linea va alla regia 11.28 minuti tra pochi secondi dunque come vi mostravo all'inizio di questa nostra diretta due volumi sono quelli in cui Padre Marcellino traccia il profilo di un santo cioè parla delle testimonianze di un esercizio eroico della fede delle virtù cristiane dei voti religiosi della carità e delle prove sostenute nella speranza dal primo volume leggo una riflessione a pagina 135 i santi sono spinti ad operare nel sociale sempre da una motivazione teologica è come se in quel loro agire sentissero risuonare nel loro cuore nella loro mente in continuazione il richiamo di Gesù ogni volta che avete fatto queste cose a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me e non so se intravedo Maria Antonia con un ospite se c'è il tempo rapidissimo per ecco la linea a te Maria Antonia un saluto rapidissimo questo piacevole incontro che tutti i nostri telespettatori conoscono il dottor Giovanni Scarale che è venuto qui per dare anche lui il suo saluto a Fra Marcellino benvenuto ben trovato grazie mi trovo qui stamattina per portare l'estremo saluto a Fra Marcellino che è stato il grande frate vicino a Padre Pio vorrei dare l'estremo saluto come gente di San Giovanni gente che ho dalla fortuna di conoscere gente che ha vissuto e allora noi lasciamo a questo punto ringraziamo il dottor Scarale per averci portato la sua testimonianza e lasciamo ovviamente la linea a te Maria Maria in studio per partecipare insieme alla celebrazione eucaristica ai funerali delle 11.30 grazie grazie anche al dottor Scarale per questo suo intervento e naturalmente ci sono tante tantissime riflessioni che potremmo continuare a fare proprio sulla scorta di queste opere scritte da Fra Marcellino Iassenza Niro che certo il Signore avrà già accolto lo diciamo perché siamo certi che appunto anche Padre Pio lo avrà accolto e riabbracciato già in queste ore in queste ore